Ed eccoci, ed eccoci con Giro di Tacco, rinnovo, rinnovo l'augurio di una buona giornata questo martedì, martedì 8 ottobre, grazie ancora a voi di esserci, abbiamo aperto l'appuntamento, abbiamo aperto l'appuntamento odierno di Giro di Tacco con Claudia Bend mille volte. Bene, allora ricordo naturalmente la messaggistica con il nuovo numero il 393-7366-200 e ringrazio anche la nostra Carlotta in regia per il collegamento, andiamo con un prossimo video Carlotta, allora sempre Claudia Bend protagonista, nei miei sogni c'era lui. Nei miei sogni c'era lui, nei nostri sogni siamo riusciti a collegarci con Claudia, quantomeno vocalmente, mentre per vederla avremo tra poco l'immagine di essere donna. Claudia, buongiorno! Ciao a tutti, amici e amiche di Giro di Tacco, ciao carissimo! Purtroppo c'è qualche problema col video, però io vi sento benissimo. Questo è l'importante Claudia, tra le due cose una funziona ed è almeno l'audio, almeno ci si sente. Allora intanto ben arrivata con noi per questa nuova stagione televisiva di Giro di Tacco, ospita oggi piacevolmente Claudia Subazzoli in arte, in arte Claudia Bend. Intanto, a parte il tempo oggi, come stai Claudia, come va? Ah io sto benissimo, però qui sta diluviando, ma naturalmente come diceva sempre mio nonno, se piove non preoccuparti, apri l'ombrello. Ah brava, mentre dalle nostre parti si, Claudia si dice, beh se piove sai cosa facciamo? Lasciamo che arrivi, insomma, è quell'importante che non faccia danni, insomma, che piova. Siamo verso Reggio Emilia, se non ricordo male, vero Claudia? Sì, io abito esattamente nella bassa reggiana, è chiamata così, vicino al paese dei nomadi che è Novellara. Ah, Novellara, brava, brava. Quanto sei legata alla tua terra, Claudia? Beh, tantissimo. Io, in realtà, il mio paese si chiama Campagnola Emilia, è vicino a Novellara, perché è molto conosciuto il paese di Novellara, proprio per il gruppo dei nomadi. Ok. Per quanto riguarda la mia terra, assolutamente sì, io sono un'emiliana doc, sono nata qui, adoro l'Emilia, come dal resto adoro anche tutte le regioni italiane, perché ognuno ha qualcosa di sé da dare, di bellissimo, perché l'Italia è un paese straordinario, però naturalmente il mio cuore è emiliano e quindi sono legata a questa terra, anche se d'inverno abbiamo la nebbia, d'estate abbiamo le zanzare, però comunque, insomma, dove nasci sai benissimo anche tu che il legame è molto forte. Anche dalle tue parti, Claudia? Allora, penso, beh, sì, perché non è che manchino le... Si dice che le zanzare abbiano le targhe, è vero sta cosa? Sì, sì, esattamente, le coltiviamo proprio dall'inverno in modo da averle in estate, belle cicciute, pronte a pungere. Penso che anche l'estate che abbiamo trascorso meteorologicamente era stata bella tosta, penso che le zanzare, insomma, abbiano fatto festa, vabbè, al di là di quello. Allora, parliamo adesso invece di musica, Claudio, oltre giustamente ad essere legata alla tua terra, parliamo di musica, Claudia Band, come è nato, quando è nato questo progetto artistico che ti vede protagonista, soprattutto che ti vede frontwoman della band, Claudia? Ma guarda, io fin da bambina avevo questa grandissima passione per il canto, per la musica che mi ha accompagnata in tutti questi anni. Poi una decina di anni fa ho deciso di mettermi in gioco personalmente con un gruppo mio. Naturalmente fra mille difficoltà, però sono molto contenta dei risultati che ho ottenuto. Io devo questo successo anche alle edizioni musicali Novalis di Roberto e Cristina, che approfitto per salutare e ringraziare, perché mi hanno appoggiato fin dal primo lavoro discografico del 2016, che era Salirà. Questo nuovo disco, che è uscito già l'anno scorso, ed è Essere Donna, è un lavoro più completo rispetto al primo e ne sono molto orgogliosa e fiera, perché contiene tutti i brani inediti miei, con un paio di collaborazioni molto belle, con Remo e Martina Denti, che sono i coautori del brano Essere Donna, e anche con Antonio Guidi e Edoardo Bruni, che sono i coautori del brano Immenso Amore. E quindi sono molto contenta del mio progetto musicale e perché prima parlavamo dell'Emilia e ci sono venute in mente solo le cose un po' negative, però l'Emilia è una terra straordinaria anche dal punto di vista non solamente culinario, ma anche della musica, perché abbiamo artisti fantastici, quindi bravissimi cantanti e bravissimi musicisti. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora parlavi di Roberto e Cristina, che salutiamo Roberto e Cristina Rinaldi e la Novalis. Quando hai iniziato dieci anni fa ci credevi molto, eri titubante, ma la passione e la voglia di fare musica era più grande, oppure hai avuto un po' di timore? Beh, sai, quando si inizia un nuovo progetto, chiaramente se sei una persona coscienziosa come sono io, qualche perplessità comunque c'è sempre, però soprattutto quando si inizia qualche cosa di nuovo e qualcosa che ti piace anche, che ti viene dal cuore, l'energia positiva è travolgente, per cui sono molto più le cose positive che quelle negative normalmente. Quando parti con un progetto nuovo devi sempre pensare che deve riuscire bene. E noi ci siamo veramente impegnati, parlo al plurale, perché oltre alle edizioni musicali Novalis, anche tutti i musicisti della mia orchestra mi hanno sempre sostenuta tantissimo nei miei progetti musicali. Quindi insomma voglio ringraziare loro, ringrazio anche le gestioni dei locali e dei circoli che mi hanno dato anche la possibilità di esibirmi e di mostrare ciò di cui ero capace. Se ti guardi indietro allora in questi dieci anni, ciò che hai realizzato sei contenta insomma? Facendo un attimo così, velocemente una marcorda Claudia, sei contenta? Assolutamente sì, sono soddisfattissima di quello che sono andata a realizzare, naturalmente non ci fermiamo qui perché anche quest'anno ho avuto nuove collaborazioni, nuovi progetti che stiamo portando avanti, ad esempio quest'estate è uscita una canzone dance che si chiama Destinazione Mare e che io ho cantato insieme con una cara amica e collega che si chiama Edita Kamenshka e con cui abbiamo già un nuovo progetto che coinvolge le edizioni musicali Novalis che sono le nostre edizioni e con una canzone nuova che uscirà però l'anno prossimo, ci stiamo già lavorando sia la canzone che anche al video ed è una canzone in collaborazione con Michele Galasso che è un bravissimo autore. Allora abbiamo in copertina, abbiamo adesso come foto la tua copertina di essere donna e magari ci ascoltiamo o meglio ci vediamo anche il video e poi andremo a presentare invece il nuovissimo video prima di salutarci, immenso amore. Vuoi spendere due parole intanto su essere donna? Ecco tu come donna, essere donna nel 2024 che cosa comporta? Ecco mi hai fatto una domanda molto difficile perché sinceramente essere donna nel 2024 è molto difficile e dico queste parole con un po' di rammarico perché come tu ben sai la cronaca ci mostra un mondo femminile continuamente bersagliato da azioni violente, da discriminazioni, da situazioni molto spiacevoli che non dovrebbero esistere nel 2024, quindi io invito tutte le donne perché le donne hanno una forza dentro di sé che è esagerata, quindi non siamo il sesso debole, noi siamo forti dentro, è che per decenni per non dir di più ci hanno martellato la testa facendoci sentire inferiori, ma non è così, non è vero, le donne sono forti e possono farcela, possono comunque vincere soprattutto le azioni violente, quindi invito tutte le donne a muoversi attraverso le denunce perché il perdono è una cosa nobilissima, bellissima, ma quando il tuo compagno ha delle azioni verso di te che sono violente va denunciato immediatamente perché non devono essere tollerate e poi soprattutto invito le donne a tirare fuori questa forza che hanno dentro di loro perché ce l'hanno e quindi anche nel mondo del lavoro a imporsi come sta giustamente succedendo, però purtroppo ancora vedo tante discriminazioni. Quindi non è facile, per concludere perché non voglio tirarla troppo alla lunga, non è facile essere donna nel 2024, però possiamo farcela. Assolutamente sì e ti ringrazio anche per questo bel messaggio che auguriamo arrivi soprattutto nel cuore di quelle persone che magari non stanno vivendo dei bei momenti. E allora torniamo adesso invece la musica prima di salutarci con Claudia Bend. Eccolo qua il video, signore e signori, di essere donna. Claudia Bend. E beh, Claudia, di questa donna hai scandito anche il nome, è D-O-N-N-A, proprio è fiera giustamente di essere donna, eh, Claudia? Esattamente, questa è un'idea di Martina Denti che è la figlia di Remo Denti e ha avuto questa idea proprio di scandire il nome donna, D-O-N-N-A, proprio per mettere il punto esclamativo sulla donna. Bene, e poi ovviamente Remo Denti, grande autore ovviamente di canzoni legate al mondo della musica da ballo e adesso anche la figlia segue le orme del padre, visto che parlavi di loro, eh, Claudia? Bene. Sì, esattamente, Martina ci teneva tanto a questa canzone che parla proprio di donne e io ho appoggiato alla grande questo progetto perché mi è piaciuto veramente tanto e quindi sempre viva le donne. Allora, eh, assolutamente, brava Claudia. Vuoi parlare un attimo della tua orchestra? Vuoi presentare i tuoi collaboratori e la tua attuale formazione? In quanti siete? Beh, l'orchestra completa è di 5-6 elementi e io ringrazio tutti i miei musicisti, ringrazio le collaborazioni, soprattutto mio compagno che è il fisarmonicista dell'orchestra, Walter Cola e poi ringrazio anche gli arrangiatori, i musicisti con cui lavoro, gli studi con cui lavoro, eh, quando devo realizzare qualche brano, insomma ho validi collaboratori che mi sostengono e mi aiutano nella realizzazione dei progetti, compresi anche gli autori che hanno creduto in me e insomma e quindi abbiamo creato queste belle collaborazioni con Remo e Nadenti, con Antonio Guidi e Edoardo Bruni e adesso con Michele Galasso con il brano che è in progetto per il prossimo anno. E infatti allora hai già un po' anticipato anche la mia domanda, progetti futuri, ma già avevi parlato di questa collaborazione con Edita Kaminska che prosegue questo nuovo brano che uscirà con il nuovo anno e che magari verrai a presentarci qui a Giro di Tacco o in collegamento vedendoti ovviamente in questo caso, eh Claudia? Sì assolutamente, guarda anzi io spero che potremo riuscire a creare un collegamento anche con Edita, visto che insomma la canzone sarà presentata a due voci e quindi magari o verremo negli studi o in qualche modo cercheremo di organizzarci un po' meglio con il collegamento la prossima volta, purtroppo stamattina c'è stato questo problema con il video, mi dispiace veramente tanto, chiedo scusa a tutte le persone in ascolto. Allora Claudia, prima di salutarci vuoi ricordare anche i social per chi ha piacere, per chi già lo fa lo sanno, ma per gli altri che magari hanno piacere di poterti seguire nelle tue serate e quant'altro, ecco dove sei presente? Esattamente, allora tutte le nostre serate, i nostri eventi sono pubblicizzati sui social e mi trovate su Facebook alla voce Claudia Subazzoli oppure anche su Instagram, tutti i nostri video li trovate su YouTube e anche su Spotify. Bene, allora ampia vetrina, insomma piattaforme complete dove poterti seguire, eh Claudia? Sì, assolutamente sì, così potranno essere sempre aggiornati sulle nostre date e sui nostri eventi e appunto poterci venire a trovare, noi siamo sempre felici di vedere nuovi amici. Brava, che è l'infa vitale per uno che sale sul palco, che sia un cantante o altro, insomma per chi sale sul palco è l'infa vitale avere amici e fans che ti vengono a vedere, insomma è assolutamente proprio l'infa, l'infa vitale. Certo. Allora Claudia, siamo addirittura ad arrivo, ricordo poi tra poco Claudia sarà ospite con Iris a Radio Sorriso, ad Artisti in Radio tra pochi minuti, noi ci salutiamo con il nuovissimo video, Immenso Amore. Vuoi presentarlo, eh, questo, questo pezzo, vuoi spendere due parole su questa canzone, Claudia? Esattamente, allora come dicevo prima, Immenso Amore è proprio la canzone con la collaborazione di Antonio Guidi che è un bravissimo autore toscano e De Dorardo Bruni e questa canzone è bellissima, un bel tersinato, il video è stato realizzato a Valleggio sul Mincio in località Borghetto ed è veramente molto molto bello, quindi restate collegati e godetevelo dall'inizio alla fine e i ringraziamenti vanno naturalmente a questi due autori che hanno avuto fiducia nelle mie capacità e abbiamo creato questa bella collaborazione insieme, sempre i suoi musicali Novalis che saluto e ringrazio nuovamente. Bene, allora salutiamo chiaramente anche noi Roberto e Cristina Rinaldi, allora ci salutiamo con questo nuovissimo video, protagonista Claudia, Claudia Band ed è Immenso Amore. Claudia grazie, buon tutto, buona vita, buona musica sempre e adesso il pubblico di Radio Sorriso ti aspetta per la prossima mezz'ora insieme con Iris. Grazie ancora Claudia, buon tutto, grazie. Grazie a tutti voi, un grandissimo abbraccio, grazie mille, ciao. Grazie, allora salutiamo Claudia tra poco come dicevo su Radio Sorriso per quanto riguarda i prossimi appuntamenti qui a Sorriso TV stasera a gentile richiesta dalle 20 e 30 insieme con Davide, mentre domani a giro di tacco sarà gradita ospite Francesca Mazzucato. Grazie alla nostra Carlotta per aver curato il collegamento, ricordo che la replica di questa puntata andrà in onda sabato e domenica prossimi alle 16 e 30. Ci salutiamo con immenso amore. Grazie a voi tutti, buona giornata.